Il libro tibetano dei morti è un testo sacro per i buddhisti tibetani, venne scritto circa 1200 anni fa e rimase per molto tempo un testo misterioso tenuto nascosto. Che cos'è il libro tibetano dei morti? Ma fondamentalmente è una guida, è uno strumento che spiega con precisione che cosa accade nella dimensione della morte. La dimensione della morte per i buddhisti è una vera e propria dimensione, non è un punto, è un luogo, un luogo dove si reca fondamentalmente l'anima della persona morta e fa delle esperienze. Queste esperienze possono avere fondamentalmente due direzioni opposte. Una direzione può portare alla reincarnazione, cioè a un ritorno nel mondo delle forme. L'altra può portare alla liberazione dal ciclo delle nascite e delle morti. In questo libro viene descritta proprio la dimensione della morte. La morte viene interpretata come la meditazione suprema, quella meditazione che se vissuta nel modo giusto permette all'uomo di liberarsi. E che cosa accade secondo questo testo? Intanto ci sono alcuni riscontri che sono poi diciamo stati raccontati anche da tutte le persone che hanno avuto esperienze di premorte. C'è in realtà una coincidenza. Diciamo che il libro tibetano dei morti rappresenta la descrizione di quello che molti hanno raccontato avendo vissuto l'esperienza di premorte. Ad esempio la luce, la chiara luce verso cui tutti i morenti, almeno dalle statistiche e dei resoconti di persone che hanno avuto esperienze di premorte, raccontano di aver visto, di aver percepito una luce molto seducente, una luce che attira, verso la quale le persone sono attirate e quando tornano in vita diciamo che si allontanano a malincuore da questa luce. Questa luce rappresenta fondamentalmente il punto di passaggio, il punto di passaggio tra la dimensione della vita e la dimensione della morte. Oltre a questa luce che cosa accade? Ma oltre a questa luce la persona vive, l'anima della persona vive questa esperienza nel bardo. La morte diciamo viene definita come dimensione del bardo, che è una dimensione di mezzo se vogliamo tra il mondo delle forme, che per i buddhisti in realtà non è un unico mondo delle forme, ma sono svariati a seconda del livello, del grado di spiritualità raggiunto. E è una dimensione invece che potremmo definire una dimensione del reale, che è al di là di tutto, una dimensione assoluta. Quindi la morte è un terreno di soglia e in questo terreno si possono manifestare, normalmente si manifestano i vissuti, le paure che la persona si porta dietro. Proprio queste paure o questi desideri profondi, radicati, sono ciò che attraggono di nuovo nel mondo delle forme, mentre il distacco, il distacco delle paure, il distacco dei desideri è ciò che ci porta oltre, ciò che ci fa andare oltre, lasciando questa dimensione del mondo delle forme, che per i buddhisti fondamentalmente è una forma di inferno, tra virgolette. Cioè, mentre alcune religioni, come la religione cristiana, ipotizza l'esistenza nella morte di un paradiso o un inferno, il purgatorio pare sia stato tolto, comunque messo in secondo piano, per i buddhisti è la reincarnazione, il mondo delle forme è già l'inferno, quindi noi ci troveremmo già nell'inferno, che può essere in diverse gradazioni, come ho spiegato anche in altri video legati al buddismo. Liberarsene significa passare oltre, significa liberarsi dagli attaccamenti e passare oltre. Questo libro quindi è molto utile perché è veramente un vero e proprio manuale che spiega che cosa accade in modo tale che la persona, quando arriva a quel momento, possa arrivare preparata. Preparata ad affrontare sapendo già che cosa gli può capitare, perché è, diciamo, la non conoscenza quella che genera poi fondamentalmente le paure. Quindi è molto utile impararlo. I buddhisti addirittura leggevano questo libro ai morenti, perché nella dimissione della morte, soprattutto nelle prime fasi, come viene spiegato nel libro, vi è una forte lucidità da parte del morente, per cui il morente riesce a cogliere i messaggi che gli vengono trasmesse. Per cui leggere questo libro ad una persona che sta morendo viene ritenuto dai buddhisti fondamentale per dargli le istruzioni, diciamo, su come comportarsi. È un testo di meditazione che è molto importante approfondire. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Vi invito a seguirmi sul blog http www.seduzionisvip.com. Ciao!